e ben trovati con l'ennesima puntata di out and back buckled o buckled out and back e mi rifiuto esatto mi rifiuto ogni volta di andare a vedere che numero di puntata è perché tanto la gente non interessa e dire l'ennesima secondo me va benissimo perché tanto è quella nuova possiamo però dire che siamo quasi arrivati alla puntata 100 magari la gente ci tiene di out and back no no di out and back impossibile di tutte le puntate che abbiamo registrato credo che questa sia la 98esima quindi fra due ci sarà una cosa pazzesca probabilmente intervisteremo Jim Womsley che è in Italia non so chi lo intervisterà diciamo che per la prima volta ma lo dicevamo probabilmente anche nelle preview in cui abbiamo intervistato qualche atleta siamo persone dallo spiccato senso di appartenenza alla comunità statunitense pur non essendo né dei runner particolari né statunitensi però ci sembrava giusto per una volta convogliare la nostra attenzione quella di chi ci ascolta su una gara la gara che assegna il titolo di campione di trail running italiano e come già detto con qualche con qualche atleta sinceramente parlo almeno per me sono molto molto stupito e contento che ci sia molta attenzione molta hype nei confronti di questa gara nei confronti del titolo italiano che a mio modesto avviso gli anni scorsi o comunque un paio d'anni fa non per forza recentissimamente era lasciato un po' alla curiosità di quelli veramente veramente interessati all'ambiente che andavano a controllare a vedere i risultati e adesso secondo me ha preso abbastanza piede tanto da coinvolgere emotivamente anche due persone come noi che guardano sempre al di là dell'oceano ci sembrava giusto chiacchierare con qualcuno che ne sa decisamente più di noi dell'ambiente soprattutto dell'ambiente italiano come l'amico qualcosa di un po' più intelligente e di di nozionistico sicuramente la persona è la persona giusta con cui chiacchierare ciao richi grazie questa intro è proprio la migliore di sempre guarda sono davvero la 98esima puntata ciao marci ciao ale grazie ancora dell'invito bello parlare di questi temi e quindi niente sono contento iniziamo pure che sono carichissimo come la vedi tu a proposito di questo che dicevo cioè visto che gli hai che hai vissuto altri altri campionati italiani allora devo essere onesto io questo hype lo vedo non particolarmente magari quest'anno ma lo vivo da tre anni a questa parte da 2020 in poi possiamo dire forse perché da appunto da tutto lo stop che c'è stato durante la pandemia il fatto che ci si è ritrovati per la prima volta a correre veramente tutti insieme in un campionato italiano è stato quello che secondo me ha scatenato un po' tutto questo interesse poi da lì ogni anno chiaramente si è mantenuto e aggiunto qualcosa anche in relazione poi diciamo al fatto che sono sempre coincisi il campionato italiano e la selezione per i mondiali e quindi questo è sicuramente un altro argomento ecco forse quest'hype per il vincitore si è perso almeno negli ultimi due anni visto che è partita l'egemonia andreas ma comunque è sempre una gara ricca di importanza quindi è bello viverla parteciparci ti resti quindi che il primo vero appuntamento è stato Porta di Pietra vado un po' indietro con gli anni Porta di Pietra è stato 2021 ho già perso il conto lo dico spesso nelle puntate 2020 2021 per me è un buco 2020 utlo esatto è stato fatto qui sul lago d'orta era utlo ed era appunto probabilmente è stata la seconda o terza gara che è stata fatta quell'anno perché poi alla fine sono iniziate in italia forse a settembre io ricordo un trail degli eroi e dopodiché c'è stato subito questo come primo grosso evento ecco tutti gli altri sono stati cancellati che poi è stata veramente una delle prime volte che per quanto mi riguarda non so poi sentiamo anche marcello però è stata una delle prime volte che ho sentito il nome di andreas che è venuto fuori questo questo writer questo italiano da da dove viene cosa ha fatto che sport faceva eccetera eccetera è un nome che poi alla fine non è non è mai più veramente scomparso dalla chiacchiera di chi segue questo sport e come giustamente dicevi tu da lì è bene o male cominciata quella che è l'egemonia di writer per quanto riguarda il campionato italiano e anche comunque in realtà per tutte le gare internazionali che è andata a fare nel senso perché si è sempre molto ben difeso sì sai cosa lì è la prima volta che si è approcciato quello che era il trail lungo perché prima aveva fatto appunto un terzo posto come diceva anche nell'intervista sempre a mare montana ma era più distanze sui 40 chilometri da lì è proprio si è imposto come atleta ultra italiano da lì in poi è anche trovato quella che penso sia la sua dimensione ideale sì lui in intervista diceva che la sua distanza o comunque quella che pensa sia la sua distanza sono gli 80 chilometri nella lista degli iscritti che poi vedremo nella parte finale della della puntata c'è anche gente che in linea di massima è più specializzata o comunque tende di solito a iscriversi ai 40-45 chilometri questi 60 chilometri sono proprio secondo me una distanza strana per tanta gente è una distanza difficile da interpretare? è troppo lunga per chi è veramente veloce sul breve? è troppo corta per chi carbura sul lungo? dipende dal tipo di terreno nel senso che in un percorso come mare montana questi 60 chilometri sono eterni nel senso sono lunghi è una gara comunque che rimarrà penso sopra le 6 ore quindi non possiamo definirla un ultra vericus quindi una gara veloce in quel caso sicuramente chi è portato per le distanze più lunghe e le gare più dure ha sicuramente un vantaggio ecco diversamente secondo me chi arriva dal breve ma dal breve corribile non trova proprio la situazione ideale sì è una misura strana anche per quello che si andrà a fare poi a giugno a Innsbruck mi rendo conto che con un mondiale piazzato lì a giugno diventa anche difficile pensare bene o male le gare che si possono fare in Italia come selezione rimangono quelle e se dovesse rimanere sempre quella la data alla fine ruoteranno fra le Liguri fra la Vicentina e fra un po' di gare toscane per cui non so ora come ora forse è un po' più la più cazzuta in questo periodo allora il mondiale come direttiva sarà sempre messo o a inizio stagione quindi in un massimo di inizio giugno o nella seconda parte quindi dopo metà settembre di conseguenza se bisognerà prepararsi per il mondiale di giugno quelle sulle gare io ho un mio pensiero riguardo a questa selezione e a questo campionato italiano trovo che Mare Montana sia la gara perfetta per la selezione di Innsbruck perché è una gara dura, tosta che non ti permette di esagerare perché se no dopo la paghi trovo che invece sia una scelta pessima per il campionato italiano perché la variabile tecnica è troppo importante e secondo me ne viene meno la performance quindi tu vedresti qualcosa di un po' più corribile? cioè un ultra vericus giusto per dire? sì sì ma poi io non vedo neanche la necessità di far coincidere selezione e campionato italiano per me sono due eventi che possono tranquillamente esistere in momenti differenti dell'anno anzi il campionato italiano messo a inizio anno è vincolante per troppe persone penso a tutti quelli anche solo che vivono in montagna lasciamo perdere quest'anno che di neve non c'è stata però in un anno normale gente come Davide, Sheraz che abita a Curmaio o lo stesso Andreas non è che hanno tanta possibilità di correre perché da loro normalmente dovrebbe nevicare in più mettere un campionato italiano a inizio stagione vuol dire che tu ti devi portare al picco di forma adesso e poi un calo ce l'hai per forza, la devi solo decidere quando anzi magari per questo hai tirato fuori una serie secondo me di punti molto molto interessanti uno di questi è effettivamente il discorso del campionato nazionale e della selezione nazionale credo, magari mi sbaglio, però probabilmente siamo ancora in una fase di semi-transizione dal fatto che ci siamo portati dietro tutta una serie di ritardi dal 2020 in poi vuoi per il covid, vuoi per il continuo spostamento della data dei mondiali in Thailandia per quanto mi riguarda trovo poco sensato il concetto di singola gara specifica in questo caso addirittura campionato nazionale come primo punto di selezione per la squadra italiana per svariate ragioni, una di queste è il campionato, ad esempio quest'anno abbiamo avuto il campionato mondiale in Thailandia che è caduto solo 5 mesi fa, quindi relativamente vicino quindi alcune delle qualificazioni vengono trasportate da quell'evento come dicevi tu la trovo troppo presto nella stagione, è una gara molto particolare la gente non è ancora pronta, mi chiedo anche cosa dovesse succedere nel momento in cui hai allo stesso modo un campionato che si svolge molto presto nella stagione mettiamo a caso tra 3 anni il campionato si fa in Australia e decidono di correre a febbraio perché la temperatura è più gradevole, quindi lì cosa succede? potenzialmente puoi ritrovarti un anno in cui non puoi fare ovviamente due campionati nazionali ma devi fare comunque due convocazioni che magari sono a ridosso non lo so, credo che in questo momento stiano ancora provando a capire qual è il sistema migliore per gestire queste cose e correggimi se sbaglio a differenza forse degli anni scorsi dove è vero, tenevano in considerazione comunque gare extra campionato nazionale, specialmente per gli atleti che vivono al di fuori dell'Italia o comunque atleti che magari facevano gare di grossa portata internazionale quest'anno mi pare di capire che il campionato nazionale è sì una delle chiavi qualificanti ma terranno fortemente in considerazione anche altre gare credo che si rendano conto della difficoltà a livello di calendario per le persone Sì, assolutamente, questo è uno dei fattori da tenere conto penso ad esempio a Martina Valmassoi che in questo momento non può proprio correre tutti quei chilometri quando appunto Isbrook e io una gara, un percorso come quello penso che sia proprio nelle sue corde e sai cosa fai? Te ne privi? Sì, secondo me la clausola di salvaguardia è fondamentale nel senso mettere poi facciamo un po' quel cazzo che vogliamo, in senso buono lo dico non voglio inimicarmi nessuno della federazione però sì, come dicevi tu Ale, secondo me è fondamentale tenersela aperta ma soprattutto specificarlo quando lo fai perché abbiamo anche troppo spesso parlato di poca trasparenza nei comunicati di gare, federazioni e tutto nel momento in cui hai questa clausola secondo me è perfetto dall'altro io però domando non è anche la fortuna di questi ultimi campionati mondiali quello di avere il volano delle convocazioni per i mondiali? Il volano, sì Sì, certo, secondo me anche a fronte del fatto che comunque sono andati bene, decisamente bene rispetto agli ultimi o agli scorsi che ci sono stati è chiaro che tre persone che hanno fatto particolarmente bene come Andreas, Ricky Montani e Davide Sheraz secondo me non puoi non portarli e quindi questo è già un dato di fatto che ti preserva un po' parte del gruppo poi secondo me sì è giusto rimettere in discussione il tutto perché nel frattempo magari ci sono state altre persone che hanno meritano o hanno meritato di essere convocati quindi è il posto giusto per dimostrare ecco Mario Montani Ma allora piuttosto che gestire il discorso convocazioni in maniera un pochettino più aperta mettiamola così tra virgolette perché poi alla fine credo sia anche è vero c'è una decisione tecnica però immagino ci sia anche una decisione non dico di pancia però insomma di io penso che questa persona possa portare qualcosa a questa squadra dato che comunque i mondiali hanno dietro hanno dietro ITRA non avrebbe da un certo punto di vista più senso dire ITRA fornisce dei dati a livello di valutazione delle prestazioni alle federazioni le federazioni possono utilizzare questi dati per andare a selezionare quelli che sono stati i migliori atleti nel corso dell'anno precedente al mondiale banalmente e allora difficoltà in cose di questo tipo magari è una cosa che non ha assolutamente senso ma io sono al di fuori di questo giro quindi non riesco a vedere i puntuali difetti sai il punteggio ITRA ti dà un'indicativa del valore dell'atleta ma poi ci sono troppe variabili nel calcolo di quel performance index che di oggettivo hanno poco e quindi sì è vero capisci più o meno chi hai di fronte ma essendo che tiene conto degli ultimi 36 mesi voglio dire io magari non sono lo stesso atleta che ero due anni fa ma infatti per questo dicevo sarebbe una metrica da 12 mesi dato che è ITRA l'organo che c'è dietro credo non abbia problemi a gestire un diverso filtro a livello database non lo so lo vedo molto complicato nel senso che appunto poco oggettivo poco poco valutato su quello che è il campo anche perché ad esempio faccio un altro esempio una come Camilla a Spagnol che secondo me merita tutta la vita una maglia come quella della Nazionale non ha un punteggio ITRA così particolarmente alto se vogliamo e non è nemmeno tra le preselezionate quindi cioè ci sarebbe troppa discrepanza invece sono abbastanza convinto che possa far bene una gara come Mare Montane andare lì e e spaccare i culi ecco sì 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 chiaro chiaro quindi vince sempre la gara secca secondo me tra le varie cose sai è anche lì poi ci sono tante variabili perché la gara secca sai sai benissimo anche te che in una gara uno può avere tutti i problemi del caso è chiaro che però a un certo punto qualcuno bisogna pur prendere devi fare una selezione e devi avere dei dati su cui basarti se si decide che in una gara si valuta come è andato l'atleta quella è purtroppo quello è quello che bisogna prendere sì considerando che siamo un paese anche abbastanza polemico in cui tutti sanno tutto nel momento in cui hai un'oggettività riesci a evitare quantomeno un po' di polemiche se lasci poi tutto non all'alea ma al tra virgolette il gusto personale del selezionatore diventa un po' tutto contestabile nel momento in cui fai bene una gara in effetti cioè lì è proprio oggettivo se è andata bene è andata bene fine sì il mio è più era più un discorso del tipo chissà se esiste un modo per trovarsi a metà tra i due sistemi mettiamola così per evitare la gara secca dove sappiamo benissimo che tante cose possono andare male e il poter gestire questa cosa in maniera un pochettino più numerica oggettiva più cioè all'esame di maturità non teniamo conto solo degli esami ma del percorso in cinque anni esattamente perché vuoi rovinare una persona così la soluzione Ale la verità è che il campionato italiano dovrebbe essere un vero campionato tipo quello di calcio con le tappe quello non sarebbe male se tu fai un campionato con cinque tappe come può essere probabilmente il Golden 3 Series no? sì è chiaro che lì si sono livellate le capacità in gioco degli atleti e la classifica finale ti dice un po' no? il valore del in un anno esatto sì in un arco temporale che non è il singolo giorno con la domenica lì chiaro quello non sarebbe male come struttura è ovvio che sarebbe un discorso del tipo partecipo al campionato nazionale quest'anno la convocazione mi vale per l'anno successivo perché poi effettivamente no ma in realtà io capisco anche il problema di tanti atleti che esattamente poi tra l'altro come come il circuito di UTMB dicono eh in questo momento il mio calendario è allora sicuro questa gara poi boh giugno forse questo poi non so se riesco a qualificarmi per quest'altro vediamo mi rendo conto della della difficoltà o comunque del cambio anche sostanziale che nel giro di due tre anni un atleta si ritrova ad affrontare nel momento in cui fino a veramente tre anni fa o anche solo l'anno scorso poteva dire ok questo è il mio calendario farò questo 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 e quest'altro invece adesso è più tutto un divenire da un certo punto di vista il nostro punto di vista che seguiamo è bello poter vedere e dire ah se Tizio riesce a stare entro i primi cinque magari riesce poi andare a fare la gara X e se riesce a fare invece la gara Y by UTMB magari riesce ad andare a fare UTMB quindi dal punto di vista del del fan dello sport è figo dal punto di vista dell'atleta immagino che non ci sia più il classico mi metto a tavolino e faccio il calendario è più un ok due gare le posso fare vediamo un po' come si sviluppa l'anno è così anche per te alla fine? di fatto quest'anno sì quest'anno è con le nuove regole in gioco non è non è non puoi mettere non puoi fare il calendario inizio stagione come è stato in passato ma te lo devi guadagnare sì un'idea del calendario c'è e poi te lo devi andare a prendere ecco ma a proposito di calendari perché lo dicevi prima visto qual è l'arco temporale che il mondiale prevede come quale pensi che sia la sua collocazione migliore per te ovviamente una cosa prettamente personale ma allora onestamente a fine stagione come l'anno scorso non era per niente male perché di fatto non rompeva le palle a nessuno a livello di a livello organizzativo anzi forse si poteva fare anche una o due settimane dopo quindi metà novembre sei proprio lontano da tutto hai avuto modo di scaricare dopo le gare lunghe di agosto che normalmente si fanno e ricostruire un pochino quello sicuramente secondo me era un'ottima data lo dico per noi di questo emisfero ecco magari per gli altri era l'opposto a giugno non è non è malissimo perché comunque arrivi in un momento in cui potenzialmente puoi avere un picco di forma senza poi doverne venire meno ad agosto però è comunque concomitante con tanti altri eventi di caratura internazionale che possono che possono togliere atleti di elite sì perché ci lamentavamo l'anno scorso ci lamentavamo notavamo il fatto che si sovrapponessero Marathon du Montblanc LUT Western State adesso abbiamo inserito anticipandolo di una settimana anche questo e onestamente cioè giugno si tratta di fare delle scelte a questo punto non puoi fare altro che fare delle scelte cosa che probabilmente anzi sicuramente ottobre inizio novembre a meno che tu non lo voglia fare per forza Bear 100 in Idaho però puoi tranquillamente andarti a fare andarti a fare anche il mondiale assolutamente sì assolutamente sì che poi punto di domanda appunto sul discorso calendario sappiamo benissimo che gran parte degli americani preferirebbe preferisce di gran lunga andare a correre Western States avendone la possibilità piuttosto che venire in Europa a fare a fare un mondiale infatti sarà interessante vedere un po' com'è la squadra la squadra americana quest'anno hanno una panchina lunghissima mettiamola così quindi non hanno non hanno di questi problemi però sappiamo che ad esempio un Peterman non ci sarà lui ha già espresso interesse per fare Western non penso gli venga comodo fare entrambe le cose sai per gli statunitensi comunque c'è anche da da pensare al loro background come sportivi nel senso che una gara dura come quella di Nisbruck di fatto non si concilia con qualcuno che vuole vincere la Western cioè sono proprio due cose un po' antitetiche quindi ci sta secondo me che Peterman va a giocarsi le sue carte di là dove secondo me a livello assoluto può fare meglio perché le sue caratteristiche lo portano a correre bene infatti in Thailandia è andato forte in un percorso comunque corribile bisogna trovare anche gli americani più europei che ci sono ecco non ti nascondo che quest'anno sarebbe l'anno ideale per vedere Wosley al mondiale perché sta facendo cose dure c'è alpinismo cinque terre il prossimo passo è quel chissà se parteciperà alle selezioni o comunque in quanto Wosley avrà un un pass gratuito nel senso di il selezionatore lo chiamerà per dirgli guarda se vuoi andare batti solo un colpo e ci sei anche perché comunque siamo anche in una fase in un particolare momento a livello storico dove comunque c'è anche tutto il discorso di un filo più attenzione a livello di spostamenti tanti atleti comunque hanno questa cosa a cuore e stanno attenti a questa cosa molti atleti decideranno di non venire in Europa per gareggiare proprio per evitare di prendere un aereo extra ad esempio non ricordo chi l'anno scorso della nazionale francese aveva deciso di non andare ai mondiali proprio per questo ragione era Andy Simmons ah no bravo vive in Francia ma non è francese sì 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 me li vedo già gli americani che tanto poi arrivano qua inizio giugno e ci rimangono fino ad agosto infatti non me lo sono mai spiegato come fanno è potere dei soldi il prossimo capitolo della vita di Aiden Hox Innsbruck tre mesi veniamo nello specifico alla gara a Mare Montana direi cosa dite ragazzi passiamo passiamo direttamente qui la domanda che mi è che mi è sorta infatti avevo buttato giù anche negli appunti perché sì abbiamo degli appunti anche se sembra che sia tutto a braccio e un po' a caso però forse la bravura sta proprio in quello far sembrare che sia tutto un po' così e invece è tutto preparato anche questa battuta che sto facendo tutto letto hai un foglio davanti in questo momento ah no sono io col telepronter no e se hai un'idea ricchi di come potrebbe essere il copione il copione della gara cioè via in gruppetti uno un unico in solitaria è una cosa assolutamente impossibile da definire però cioè voglio dire le persone con cui correrai e con cui battaglierai le conosci da un pezzo quindi pro e contro pregio e difetti bene o male le conosci allora la gara maschile un po' me la immagino nel senso mi vedo un Andreas che magari sulla prima salita cazzeggia un po' con gli altri e poi quando decide di aprire il gas lo apre e non lo chiude più ecco normalmente ha sempre fatto così e quindi secondo me sarà una gara all'inseguimento di Andreas per chi vorrà provarci poi ci sta che uno può pescare la giornata perfetta e e dagli filo da torcere ma penso che a livello assoluto lui sia una spanna soprattutto e poi comunque i suoi compagni di squadra Dinamo Davide Sherrath e Ricky Montani sono quelli che penso io possano dargli più filo da torcere abbiamo solo un piccolo dubbio su Ricky Montani che negli ultimi giorni ha mollato un attimo la corsa per un piccolo problemino ma dovrebbe essere il via vedremo comunque un altro che vedo molto bene è Davide perché si è allenato tanto ha fatto tante ore preparato e pronto quindi vuole sicuramente dimostrare che è lui il vice il vice Andreas e poi voglio dire dietro bene o male siamo sono tutti secondo me allo stesso non dico allo stesso livello ma gente che se la può battagliare e che quindi alla fine ne verrà fuori forse un po' sai il carattere la grinta il cuore la passione tutte quelle cose che a un certo punto quando le gambe ti abbandonano devono per forza sostituirsi per arrivare alla fine quindi pensi che a livello di di gara in sé la differenza la farà quella sorta di mangia e bevi da una quindicina di chilometri tra il quindicesimo e il trentesimo o sarà il discesone dopo dopo il trentacinquesimo o se vedi altri punti che sono un po' particolari come in chiave di lettura di gara la mia chiave di lettura è che chi riuscirà ad essere più efficiente nelle discese è quello che ne beneficerà di più nella parte finale che comunque rimane muscolare quindi è un po' quella secondo me la chiave di lettura perché è una gara come mare montana dove le discese non sono mai pulite non puoi mai rilassarti se uno ha quel tipo di caratteristica sicuramente è un bel jolly per quanto riguarda invece la gara femminile abbiamo questa comunque incognita se vogliamo su una gara così lunga in termini di tempo che è Fabiola Conti che sicuramente si approccia alla gara da favorita ITRA come dicevi te prima sul performance index non lo è dal punto di vista dell'esperienza per quanto mi riguarda e bisognerà vedere come dicevo prima quando le gambe ti abbandonano cosa dice la testa perché diventa molto importante al contempo una ragazza come Camilla che sicuramente di testa è bella dura può sicuramente beneficiarne in una gara così insieme comunque ad altre ragazze che si sono allenate bene e si sono preparate hanno visto il percorso come Marina Cugnetto o altre che comunque possono dire la loro appunto vediamo anche nella lista degli iscritti Nicole Guidolin Erika De Matteis ci sarà una bella battaglia anche lì tra l'altro secondo me è interessante ed era un discorso che era uscito anche nelle mini interviste che avevamo fatto sarà interessante anche il fatto che comunque lì davanti bene o male vi conoscete molto bene tutti sono anni che gareggiate l'uno contro l'altro e immagino anche sappiate quali sono i punti i punti forti di uno e i punti forti dell'altro una delle cose che era venuta fuori ad esempio nell'intervista con Montani lui diceva che lui viaggia in discesa e secondo me è indicativo del fatto anche l'anno scorso l'ha vinta è stato lui nel 2022 a vincerla corretto? 6 ore e mezza circa è una di quelle gare dove in discesa effettivamente come dicevi puoi fare la differenza dall'altra parte credo che sappiate bene riconoscere qual è il passo ad esempio di un Andreas o di un Davide Scheraz un passo di quelli impegnati e un passo di quelli a conservazione immagino che per voi tutti lì davanti mettiamo caso quei 10-15 che potrebbero giocarsi un po' le prime posizioni ci sia anche una parte di piano gara questa cosa potenzialmente può essere anche ribaltata nel momento in cui si parte e le cose non vanno come ci si aspetta la mia domanda è nel momento in cui la mia domanda è ti è mai capitato di dover fare di fare un piano gara e ribaltarlo immediatamente nel momento in cui ad esempio gli atleti con cui i gareggi non stanno facendo quello che ti aspettavi facessero perché immagino che tu stia pensando qui Andreas potrebbe spingere come dicevi prima magari non la prima salita magari la prima discesa montani potrebbe provare a fare un piccolo allungo e un po' assaggiare quello che è la condizione generale immagino che tu non debba fare solo il piano gara su di te ma anche pensare agli altri cosa potrebbero fare il mio piano gara l'ho sempre stracciato in linea di partenza perché poi non so se è l'adrenalino o cosa ma salta tutto per l'aria blackout partirete e dici partiamo piano inizio che poi la gara è lunga no non succede mai alla fine tanto parti comunque forte però sì in realtà non sono tanto secondo me i piani quanto le caratteristiche degli atleti Andreas sai che ha una velocità acceso o spento quindi se va uno come Ricky Monta sai che invece lo potresti considerare più un diesel nel senso che parte conservativo ma sai che prima o poi arriva se si senti rumore in discesa le foglie è lui è lui o un cinghiale o lui che in Ligure potrebbe anche essere sì infatti uno come Davide Scheraz idem è uno che comunque se c'è da partire forte parte non è uno che si tira indietro però sì lo riconosci di sicuro quando uno sta scendendo controllando o quando uno sta spingendo è lì è un po' più la caratteristica degli atleti poi penso che nel piano gara ciascuno di noi si dice no ma partiamo contro là poi veniamo fuori dopo ma mediamente non è mai così soprattutto poi in una gara importante dove ci sono tante persone con cui con cui lottare un atleta che invece ti incuriosisce che conosci poco ma che sai che dovrai temere o tener d'occhio ce ne sono molti indubbiamente ma qualcuno più di altri se potresti vedere com'è il dark horse secondo me quest'anno vedo bene Matteo Anselmi perché trova un percorso molto simile a quello che è il suo percorso abituale di casa diciamo percorsi elbani o ligure un po' si assomigliano un po' a questa cazzutaggine che c'è e quindi lui è un altro di quelli che sai che arriva in discesa lui viene giù bene ecco la cosa di Matteo è che non capisci mai se sta facendo fatica è uguale cambia niente non lo puoi capire e questo poi dentro ti distrugge perché ma io sto facendo fatica io sto facendo fatica lui lo sta facendo o no non lo capisci quindi è uno di quelli da tenere d'occhio c'è una presenza che definirei italo-austriaca di Filippo che è un ragazzo italiano che se non sbaglio appunto vive nella valle di Stubai che si presenta al via comunque anche qui con un ottimo punteggio itra delle ottime gare soprattutto alcune dure dove ha fatto bene che però il 90% di noi non conosce questo ragazzo quindi non sappiamo troppo come approcciarci e io in realtà ho sempre la menzione d'onore per Roberto Mastrotto che lui è lì è una mina vagante sì sì lui è lì è un piccolo cararmato Auxerhofer è possibile che avesse vinto Mozart due anni fa l'anno dove la Pretto ha vinto la gara non lunghissima ma subito sotto forse lui aveva vinto la gara lunga ha vinto Mozart non la definirei tecnica Mozart però ha due salite dure e una discesa molto in piedi però ha vinto anche una gara dalle sue parti Höck König adesso non so la pronuncia com'è ha fatto secondo Valderan comunque qualche gara tosta l'ha fatta e dici visto il precedente in cui è arrivato qualcuno sempre da quelle parti che poco si conosceva e abbiamo cominciato a conoscere tutti direi che è il caso anche perché poi lui giocherebbe in casa in zona Stubaital più o meno quindi se fosse in Isbrook quindi sì è chiaro che viene lì per portarsi a casa la qualificazione per i mondiali di casa chiaro arriverà al traguardo con la bandiera austriaca no dai e invece per quanto riguarda le donne hai nominato la Conti Cognetto Spagnol eccetera la Guidolin c'è qualcuno che potrebbe fare che potrebbe fare la sorpresa tra i nomi secondo te allora non lo so perché di fatto io non non ne conosco troppo conosci meno forse sì conosco intendo proprio personalmente quindi a parte Camilla le altre ragazze non le conosco benissimo quindi non conosco anche troppo le loro caratteristiche quello che è certo è che quest'anno ci sarà una campionessa italiana nuova visto che nessuna delle precedenti è al via e quindi sarà bello vedere anche la loro battaglia ecco comunque anche in questo caso sono certo che la variabile tecnica verrà fuori perché va bene l'allenamento va bene l'intensità ma l'esperienza e le capacità tecniche sicuramente avranno grande importanza forse di più l'esperienza anche perché una gara che per le donne sarà intorno alle sette ore è già lunga sì non è banale su quei sentieri in questo periodo direi di sì sicuramente secondo me assisteremo a più sorprese in campo femminile forse perché appunto sono nomi che conosciamo meno o che si affacciano a questo panorama di campionato italiano da poco per cui mentre sugli uomini bene o male i nomi da seguire li conosciamo e non credo che ci stupiranno più di tanto le prime dieci posizioni campo femminile quello sarà figo cioè sicuramente ci saranno delle belle novità la variante Conti è interessante perché sulla carta come dice tu Ricci sembrerebbe imbattibile però la distanza è sicuramente qualcosa di nuovo e sette ore in Liguria sono sette ore in Liguria ah no poi sai che la crisi ti arriva la botta ti arriva prima o poi non fai sette ore senza avere un calo e lì vediamo come la gestisce perché a essere onesti a vederla da fuori in quello che sono state le sue stagioni abbiamo visto a partire qualche volta no di testa proprio la concentrazione nella gara e tutto quindi era Zegama che aveva avuto un calo negli ultimi cinque chilometri bene o male sì beh ha comunque concluso top five sì 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 no no assolutamente però una bella crisi è stato lì era evidente che era finita la benzina sì se non ero magari mi sbaglio proprio inizio stagione anche addirittura non era andato doveva fare una gara sulla neve una gara breve ha avuto qualche problema non è riuscito a finirla poi comunque sai arriva da gare super intense se lei non arrivi a 170 battiti nella mare montana quindi è diversa la gestione anche dell'intensità vediamo direi che ha incuriosito tutti comunque trovarla in griglia di partenza sulla 60 almeno a me sicuramente ha stupito non me lo sarei aspettato sì sì anch'io onestamente anche perché pensavo che diciamo pensavo che il suo obiettivo fosse quello di qualificarsi per il mondiale tra il corto questa è una scelta particolare quella di mettersi su una distanza così quindi vediamo anche se presumo ci sarà gente che comunque è interessata magari al discorso della gara c'è gente che è interessata al discorso del campionato nazionale ma c'è gente che non è interessata magari al al mondiale o alla distanza per cui sta correndo chi lo sa magari è anche un discorso di preferisco andare a correre la 60 questo vale per lei ma anche per tutti gli altri nella gara per campionato nazionale perché è la gara competitiva per eccellenza in Italia io direi anche nel 2023 sarei pronto a a buttarmi più che altro perché proprio per con la con la sorta del tra virgolette ricatto del campionato nazionale e delle convocazioni nazionali comunque tanti atleti sono si presenteranno all'uono questo weekend cosa che non credo succederà poi nel corso dell'anno per altre gare magari sì magari ci potrà essere quei cinque uomini tre donne nella gara XY o come si era visto l'anno scorso non so al Bork Trail semplicemente perché era due settimane prima dei mondiali tre settimane prima dei mondiali quindi era un un discorso di check di quello che era lo stato di forma però non penso ci saranno gare a livello nazionale più competitive dal punto di vista del parterre solo atleti italiani che è figo pensare che in tre mesi abbiamo avuto la gara americana più competitiva di tutte la gara italiana più competitiva di tutte da aprile in poi sarà una merda probabilmente perché non c'è nient'altro e a gennaio la gara francese più importante di tutte quindi possiamo chiudere gli altri nove mesi no sono potenzialmente molto d'accordo con te sì 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 penso anche io che non sarà facile riunire tutti questi atleti italiani in una sola gara probabilmente ci saranno altre gare italiane super partecipate magari anche da un pubblico straniero come vedi esempio LUT ma ritrovare tutti i ragazzi e ragazze italiane può essere difficile grande merito a Mare Montana di aver essere riuscito a smuovere due culi pesanti come me e Alessandro per venire a vedere la gara del campionato italiano di trail quindi un'ora e un quarto venire arrivare io qualcosa dentro sì vabbè no però figo ci saremo sì sì cioè io farei solo la mia la cosa la cosa che preferisco delle preview la butto in birra come al solito no sarebbe bellissimo no in realtà ho letto io il regolamento perché così non dovete farlo voi la gara che ci interessa e poi ho una domanda per voi la gara che ci interessa è la 60 chilometri con 3600 metri di livello circa partenza alle 6 del mattino per chi volesse seguire sul sito che non so quale sarà quello dei risultati Endu forse WIDU Sport WIDU Sport si vede che sei proprio Veneto porca troia qui è il dominio sul sito dicono che ci sono 6 chilometri facili e questo lo dico per te Erichy che magari non lo sai 6 chilometri facili 15 medi e 40 difficili non so chi abbia deciso questo grado di difficoltà ma sai che ce ne sono 40 difficili davanti a te la prima il primo punto del regolamento è rispettare se stessi niente inganni né prima né durante la corsa mi raccomando non ci saranno ovviamente premi in denaro si vince la gloria per chi fosse un filo per chi si dichiarasse un po' graphic designer non aprite mai il regolamento perché ci sono circa 200 font differenti all'interno del documento a volte spezzano parole con font differenti riserva alimentare ed è questo è un mio pet peeve mi piace sempre quando le gare ti dicono che tra il materiale obbligatorio c'è la riserva alimentare minimo un gel più una barretta energetica ora io mi chiedo per 60 km ci sta chi fa 60 km 3.500 con due gel come è possibile non scrivere niente è ovvio che uno deve portarsi a mangiare se non porti a mangiare sei scemo perché dovrebbe essere un materiale obbligatorio una roba del genere però vabbè però ti stupirà che l'ho letto anch'io il regolamento e non ho trovato dove sono i ristori consentiti con assistenza è vero è vero non è segnato c'è solo la lista dei ristori esatto o vale dappertutto tutto o all'italiana cioè mentre c'è spuglio sì dove c'è no dove c'è arrivi con la macchina esatto in quelli un po' inculati in realtà no quindi ancora un punto da smarcare la mia domanda slash provocazione è questa ovviamente ci sarà come tutti i campionati nazionali una separazione tra gara fida e gara no chi è atleta pseudo professionista e si è iscritto alla gara non fida è considerabile cherry picker diventa vince il titolo di cherry picker italiano può darsi può dare è tutto uguale dobbiamo portare delle porto delle delle ciliegie in vetro di Murano da dare al vincitore delle gare alle distanze minori sì non benissimo forse io direi che io direi che a questo punto ci siamo Riccardo grazie mille di esserti prestato la prossima volta che ci vedremo tra qualche giorno tu sarai molto più infelice presumo o magari no magari in realtà nelle foto sei uno di quelli che sorride sempre quindi sei il manifesto della corsa che fa bene alla vita e alla gioia Marcello grazie mille grazie a voi se doveste essere sul percorso di Mare Montana o a Loano o in giro fateci sapere salutateci se Walmsley vuole non gareggiare 5 terre e venire a vedere Mare Montana ci faccia un colpo di telefono senza problemi gli diamo un passaggio in macchina non è un problema grazie mille dell'invito ragazzi io e te Ale ci fermiamo a parlare un po' di Barclay adesso giusto? esatto Barclay e tutte gare sub 42 km è una puntata speciale io e te grazie ancora dell'invito è stato un piacere ci vediamo ciao ciao